Ok, ciao a tutti ed eccoci con un'altra fondamentale, direi, lezione di filosofia del Settecento. Oggi parleremo, oggi e nelle prossime lezioni, parleremo di Jean-Jacques Rousseau, un pensatore che ha caratterizzato nel bene e nel male il pensiero illuminista del Settecento, un pensatore veramente originale, diverso da quasi tutti i filosofi che abbiamo affrontato finora e un pensatore anche sicuramente innovativo dal punto di vista delle teorie, della concezione dello Stato, della società, insomma vedremo tutte anche le novità che apporterà Rousseau nel percorso del pensiero occidentale, ma anche molto controverso, con luci e ombre, personaggio molto difficile, un personaggio che poi purtroppo soffrirà di problemi mentali, che riuscirà a essere rodiato da tutti, dagli suoi stessi amici, dai filosofi francesi, da Hume che lo ospiterà. Un filosofo però che ha lasciato il segno non solo nel Settecento, non solo, poi nel corso dell'Ottocento diventerà veramente un punto di riferimento per tutto il filone del pensiero democratico sull'eguaglianza, sul suffraggio universale, tutte le grandi battaglie dell'Ottocento sul versante dei diritti dei cittadini all'interno dello Stato, ma sarà finora un punto di riferimento anche per partiti politici, per movimenti culturali che si ispirano ad alcune idee di Rousseau, pensiamo ad esempio alla piattaforma Rousseau, che è un movimento politico italiano, utilizza per favorire la partecipazione diretta del proprio elettorato nelle scelte politiche del partito che poi viene rappresentato in Parlamento. Non è un caso che si faccia riferimento ancora a questo pensatore proprio per in qualche modo testimoniare l'originalità, l'importanza e anche l'impatto che ha avuto il pensiero di Rousseau nel corso dello sviluppo delle teorie politiche moderne. Anche lo stesso Karl Marx, lo vedremo poi il prossimo anno, dedicherà riflessioni sul pensiero di Rousseau e erediterà parte di alcune idee all'interno del proprio sistema, pur poi generando invece un'ideologia completamente diversa che è quella appunto del socialismo. Queste tematiche sono state per altre affrontate nel video che parla delle ideologie ottocentesche e quindi dello sviluppo di questi pensieri, compreso un po' il marxismo, nell'ambito della riflessione politica teorica sullo Stato che verrà fatta nell'Ottocento in funzione poi dei grandi mutamenti anche sociali, politici, le rivoluzioni, i moti e tutti gli eventi che hanno appunto caratterizzato poi l'Ottocento anche dal punto di vista storico. Partiamo con una frase, ce ne sono tanti diaforismi che avremmo potuto scegliere, ho pensato a questo, il primo uomo che ha recintato un pezzo di terra dicendo è mia e che ha trovato gente tanto semplice da credergli, è stato il vero fondatore della società civile. Quindi vedete come già in questa frase emerga un punto di vista molto diverso sul tema, ad esempio, della proprietà privata. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla vita. Rousseau vive interamente nel corso del Settecento, nasce nel 1712 e muore nel 1778, più o meno gli stessi anni di nascita e di morte di David Hume, che sarà un suo amico ma anche poi un filosofo con cui poi purtroppo litigherà, con cui romperà i rapporti. David Hume sarà peraltro il pensatore che faremo proprio appena dopo aver finito Rousseau. nascerà Rousseau in una famiglia modesta, una famiglia di artigiani, la madre la perderà subito perché morirà di parto, mentre il padre, rimasto poi coinvolto in una lite, di fatto deve lasciare Ginevra quando il figlio ha solo dieci anni. Quindi a dieci anni Rousseau si trova senza madre, senza padre e viene cresciuto da questa borghese, Madame de Poirain, che si occupa della sua formazione, della sua educazione e lo aiuta chiaramente economicamente, tanto da permettere di studiare, questo per un bel po', fino al 1742. Rousseau di Primachitto non è un filosofo ma bensì un musicista. Interprende, va a Parigi per interprende una carriera di musicista e lì a Parigi succede un po' un incontro che caratterizzerà la sua vita, cioè incontra gli illuministi, gli enciropedisti e in particolare diviene amico di Diderot. Diderot è il capo del progetto enciropedico e infatti Diderot che conoscerà le brillanti idee, ancora però soprattutto dedicate a temi come appunto la musica o temi molto di nicchia, comunque incaricherà Rousseau di redigere alcune voci della stessa enciropedia. In questo periodo poi continua in realtà le sue peregrinazioni perché da Parigi poi si sposta ad esempio a Venezia dove accompagna un diplomatico e va ricordato sia la sua formazione e nascita e formazione a Ginevra, sia anche la sua permanenza a Venezia perché sia la Svizzera sia Venezia sono delle repubbliche e sono un esempio per Rousseau di utilizzo sociale della politica, lì dove nella Repubblica viene favorita la partecipazione. Quindi diciamo quello che lui ha visto nella sua vita è un contesto anche non solo ovviamente di Stato accentrato come la Francia ma anche di piccole repubbliche dove veniva ovviamente più enfatizzata e più sviluppata la partecipazione nella vita politica, nella vita amministrativa. A Venezia ci va come segretario di un diplomatico e in più lui racconta che proprio in qualche modo mettere il naso nelle faccende della politica, nelle contrattazioni, nelle negoziazioni, nella vita delle istituzioni, gli ha fatto capire molto lui appunto ragazzo di umili origini, un po' tagliato fuori dai circoli che contano, ecco tramite questo suo lavoro di assistenza a questo diplomatico che si trovava a Venezia, appunto gli ha permesso di mettere il naso, di conoscere meglio anche un po' le leve del potere, come funziona uno Stato. Tornerà poi a Parigi, sposerà una sarta di umili origini da cui pensate avrà cinque figli, tutti e cinque mandati in orfanatrofio. Questa è una cosa molto particolare, perché normalmente in orfanatrofio ci andavano i figli che appunto non avevano madre, non avevano padre, come ha rischiato effettivamente anche di fare lo stesso Rousseau, ma invece Rousseau giustifica questa scelta da un punto di vista filosofico, avendo letto Platone, avendo condiviso con Platone l'idea del famoso comunismo platonico, cioè l'idea che lo Stato a doversi prendere in cura, educare, gestire i figli. I figli sono di tutti, sono dello Stato e non sono figli di una singolo, secondo Rousseau, e quindi è giusto che lo Stato se ne occupi. Non si sa esattamente se è proprio vero che Rousseau abbia mandato tutti e cinque figli nell'orfanatrofio, da alcune lettere addirittura lui dice di non ricordarsi neanche come si chiamano, ed è estremamente curiosa questa scelta, anche a luce del fatto che sarà proprio Rousseau, questa ironia della sorte, a essere uno dei primi nella storia a redigere un'opera molto importante di pedagogia e di formazione, di educazione, che peraltro gli costerà la condanna da parte della chiesa, la scomunica, eccetera, eccetera. Quest'opera si chiama L'Emilio. Quindi da ricordare che proprio l'autore, che più di tutti era interessato alla formazione, all'educazione, nel rispetto poi del carattere dei ragazzi, eccetera, sarà quello che invece manderà in collegio i suoi figli. Bene, a questo punto c'è un punto di svolta, nel 1749, una data da ricordare. Nel 1749 Diderot finisce in carcere, il suo amico Diderot finisce in carcere, perché? Perché è accusato ovviamente di stare via via, stava uscendo a capitoli la enceropedia, la enceropedia conteneva voci che erano il succo del pensiero illuminista e quindi assolutamente contrarie allo status quo e considerate sovversive dal potere dello Stato centralizzato francese e quindi Diderot viene accusato e addirittura finisce in galera, si interrompe in maniera temporanea lo sviluppo dell'enceropedia che avrà appunto poi uno sviluppo molto complicato, sarà ripresa in molte occasioni nel tempo, ma nel momento in cui ci racconta Rousseau, stava andando a trovare in carcere Diderot, legge in un giornale un bando di concorso. Rousseau legge questo bando di concorso che era stato bandito dall'Accademia di Dijone, un importante premio, molto prestigioso, per lo scritto migliore che sarebbe pervenuto in risposta a un quesito, se le scienze e le arti avessero migliorato e in che modo la scienza e l'arte abbia migliorato lo sviluppo e il progresso della società. Rousseau ci dice che avendo letto questo bando di concorso è rimasto talmente folgorato che quasi gli è mancato il fiato, si è chiuso in se stesso e ha iniziato a riflettere, a rimuginare su una serie di idee e di intuizioni che aveva avuto, pur avendo avuto una formazione filosofica molto frastagliata, non era ancora un filosofo di professione, decide di scrivere e di partecipare al concorso e di scrivere un saggio, il discorso sulle scienze e sulle arti che escerà un anno dopo, il 1750, e che avrà un notevole successo, vincerà Rousseau il premio dell'Accademia di Dijon, diventando uno scrittore famoso in tutta la Francia, ma anche molto controverso, perché attenzione, la risposta di questo saggio, il tema, la tesi di questo saggio è diametralmente opposta a quella che chiunque si sarebbe aspettato, la risposta è no, le scienze e le arti non hanno assolutamente aiutato l'uomo a progredire, a svilupparsi e a migliorare, al contrario l'hanno peggiorato, immaginate una posizione di questo tipo nella piena fioritura della Francia illuminista, laddove le scienze, le arti, le tecniche erano proprio considerate la stessa realizzazione della ragione, del lume della ragione, grazie da Galileo in poi, dalla rivoluzione scientifica in poi, la ragione che illumina il percorso dell'uomo contro la tradizione, contro coloro che si schierano a favore appunto dello status quo, della religione, dell'oscurantismo, del pregiudizio e dell'intolleranza. Ecco, invece Rousseau dice, attenzione, siete fuori strada, la scienza e l'arte, l'uomo non lo migliora, lo peggiora. Questa cosa avrà, diciamo, notevole successo, ma anche notevolissime critiche e che lo accompagneranno per tutto il resto della sua vita. Comunque continuano i suoi spostamenti, ottiene l'ospitalità in Francia di Matal de Pinay, del maresciallo Luxembourg, ma insomma questi sono gli anni in cui la produzione di Rousseau raggiunge i suoi capolavori. Noi ci occuperemo dei tre, diciamo, testi che vedete sottolineati in giallo, il discorso sulle scienze e sulle arti, cinque anni dopo, anzi quattro anni dopo, esce il discorso sull'origine e fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini e lì iniziano veramente i problemi per Rousseau, infatti in questo saggio inizierà a analizzare lo stato di natura e lo stato di diritto, cercando di cogliere gli elementi che hanno generato l'ineguaglianza tra gli uomini, famosa è la frase di Rousseau, l'uomo nasce libero ma ovunque io lo vedo in catene, è ovunque in catene, com'è possibile che qualcosa che nasce allo stato libero invece poi lo troviamo costretto e limitato in tutto, dallo stato, dai regimi, dal potere, eccetera, eccetera, poi vedremo con un dettaglio, adesso questa è solo una presentazione generale, ci sono altre opere importanti che però non faremo, il discorso sull'economia, c'è la nuova Eloisa che è un romanzo e poi l'Emilio, l'Emilio parla di educazione dei giovani, di pedagogia e di formazione, ebbene la Chiesa reagirà con le parole condanniamo il detto libro come contenente una dottrina abominevole, questo per dire quanto i suoi scritti originali ma anche controcorrente, sia rispetto alla tradizione stabilita delle religioni ma anche rispetto ai discorsi, se vogliamo, dell'innovazione illuminista, veramente una voce fuori dal coro, abbiano avuto appunto un grande riscontro di pubblico ma anche feroci critiche, questa critica poi culminerà nel suo capolavoro che appunto rappresenterà il suo più grande successo ma anche poi il punto di non ritorno per le condanne che lui purtroppo riceverà un po' dappertutto in Francia, in Svizzera ed è l'opera del 1762, il suo capolavoro è famosissimo, è il celeberto contratto sociale, Parigi propone la distruzione e addirittura verranno bruciate in arrogo nella pubblica piazza le opere di Russo, i libri di Russo vengono bruciati in piazza, la Svizzera emette un ordine d'arresto e Voltaire che sarà uno degli intellettuali più famosi, dei filosofi più famosi del Settecento, sicuramente una voce ascoltatissima in Francia e addirittura è uno forse dei nemici numero uno di Russo anche se in un certo senso appartenevano tutti alla schiera dei pensatori illuministi, però Voltaire in qualche modo effettivamente vedeva il pensiero di Russo come un tradimento dell'illuminismo e addirittura pubblicherà un libro di satira, di critica e di invettiva contro Russo, questo è stato anche in Svizzera dove anche Voltaire era andato e quindi si trovavano entrambi in Svizzera ma in un certo senso l'uno contro l'altro, addirittura la Svizzera emette un ordine d'arresto, sentite come ce ne parla Russo dopo appunto la pubblicazione di queste opere, mi si ammonì dai pulpiti, fui chiamato l'anticristo e perseguitato nelle campagne come un lupo mannaro, già per i sentieri i ciottoli cominciavano a rotolarmi dietro, lo rincorreva la folla tirando gli sassi e lui si scappava in campagna e infine fui assalito nella mia stessa dimora, cioè riuscirono addirittura ad arrivare a casa sua e a salirlo dentro casa sua, a questo punto lui capisce in un certo senso di essere in pericolo, di non poter rimanere neanche nella Svizzera calvinista, scomunicato appunto anche dall'una e dall'altra fede, chiede rifugio presso forse l'ultimo personaggio che gli rimane, l'ultimo amico che gli rimane, David Hume, vai quindi in Inghilterra ospite da Hume e rimarrà lì un paio d'anni, ma anche questa esperienza finirà in maniera conflittuale, perché di fatto poi Rousseau verrà fatto oggetto di una specie di scherzo in cui appunto si simulava che il re di Prussia si era lamentato per il fatto che Rousseau non aveva fatto insomma per una serie di accuse false, ma era uno scherzo, diciamo una presa in giro che invece Rousseau immagina essere colpa di Hume, in colpa Hume di questa macchinazione, appunto di parlargli alle spalle e immaginiamo però anche che Rousseau aveva già sviluppato ormai dei problemi psicologici, era piuttosto paranoico e la sua vita così roccambolesca d'altronde era anche, forse aveva alimentato questi problemi per cui si sentiva perseguitato da tutti, deriso da tutti e quindi poi romperà l'amicizia con Hume, tornerà a Parigi, ma anche a Parigi non troverà più un conforto, benché appunto ormai personaggio famosissimo, ma molto controverso, amato e odiato forse nella stessa maniera e preda dei disturbi mentali, si ritirerà diciamo a vita privata fuori dai circoli intellettuali e poi morirà nel 78 dopo aver scritto una autobiografia. Quali sono i cardini della spiegazione politica di Rousseau? Li vedremo poi nel dettaglio parlando delle tre opere che abbiamo citato, però si può dire che sono caratterizzati intanto da un'eredità forte del giusnaturalismo, il concetto della libertà e dell'uguaglianza. Noi abbiamo visto nel pensiero di Locke e di Hobbes affacciarsi soprattutto il tema della libertà. Ecco, forse Rousseau si interroga su come poter invece arrivare a un rinnovamento della società, delle tradizioni, delle leggi, delle istituzioni per poter in un certo senso bilanciare, se è possibile immaginare appunto uno Stato che è in grado di bilanciare la libertà con l'uguaglianza. Indubbiamente questo percorso lo porterà a una feroce critica della società in tutte le sue forme e soprattutto a una rilevazione di una contrapposizione tra la società per come è formulata e le esigenze dell'individuo. Le esigenze dell'individuo che vengono da uno Stato naturale che in un certo senso viene negato, viene oppresso, viene schiacciato dalla società in cui viviamo. Quindi l'uomo costretto a vivere in una società che sostanzialmente non rispecchia le aspettative, le aspirazioni e lo stesso essere umano, che nega l'essere umano. Quindi questo si accompagna anche, e questo forse sarà probabilmente uno degli elementi di maggiore scontro con i filosofi contemporanei, cioè la critica al progresso. In un momento in cui la scienza veniva abbracciata nel progetto dei filosofi, del progetto degli illuministi, del progetto dell'encellopedia, veniva abbracciata come elemento di progresso, come lume della ragione. Insomma abbiamo fatto ormai un lungo percorso che da cartesio, da razionalismo ci ha portato verso l'empirismo, verso la crescente importanza delle scienze, della tecnica, la rivoluzione scientifica. Immaginate che alla fine del 600 ormai la fisica è una fisica rinnovata, ormai sono diffuse le idee di Newton e quindi siamo già in piena scoppio in Inghilterra nello sviluppo della rivoluzione industriale, ma già anche in Francia si stanno muovendo le riforme. In questo momento di cambiamento, con la borghesia rampante, con l'anzia regime da mettere in crisi, c'è una critica al progresso, una critica alla scienza, una critica alla tecnologia, una posizione del tutto originale e diversa e contrapposta a quella dei filosofi illuministi. Per sintetizzare tutto questo percorso si potrebbero citare anche qui molte frasi, quella che mi è venuta da citare prima di tutti è una frase che proprio caratterizza il pensiero di Rousseau. Tutto è bene quando esce dalle mani dell'autore delle cose, Dio barra natura, tutto è bene ciò che viene dalla natura, è perfetto, funziona bene, è al suo posto. Tutto degenera tra le mani dell'uomo, tutto ciò che viene passato dalla natura all'uomo, tutto ciò che viene manipolato, artefatto, fatto ad arte, manipolato attraverso la ragione, attraverso la scienza, attraverso la tecnica e attraverso anche l'istituzione di contesti istituzionali, lo stato di diritto, la proprietà privata, insomma vedremo tutto quello che succede che porterà questa degenerazione da ciò che esce perfetto dalle mani del creatore, che poi possiamo intendere come Dio ma anche come natura, quando invece appunto esce dalle sue mani e viene dato, viene donato all'uomo, ecco l'uomo riesce a distruggere e a degenerare tutto ciò che appunto nasce invece perfetto. Partiamo dall'inizio, 1750 è il discorso sulle scienze e sulle arti, il quesito dell'Accademia di Dijon è la rinascita della scienza e delle arti, ha contribuito a rendere migliori i costumi, quindi ha migliorato la vita dell'uomo, chiaramente tutti si aspetterebbero una risposta positiva, certo la rinascita, quasi lo stesso tema, lo stesso diciamo domanda per come è posto, fa pensare, parla di rinascita della scienza e delle arti, beh si aspetterebbe che la risposta di tutti i concorrenti sia certo, ha contribuito in tanti modi a migliorare la vita, a renderci più diciamo diversi dagli animali, a renderci migliori, a fare diciamo progressi, sviluppo, a migliorare la vita. La risposta è no, Rousseau risponde la rinascita della scienza e delle arti non ha contribuito a rendere i costumi migliori, anzi ha contribuito a rendere i costumi peggiori, una tesi opposta all'illuminismo. Ok, la ipotesi da cui parte Rousseau è che l'uomo nel suo stato originario, e poi vedremo perché dedicherà molta riflessione soprattutto nel successivo testo, non so se io ho scritto cos'è lo stato originario per l'uomo, ma immaginiamoci uno stato originario pre-sociale in cui l'uomo è felice. Tutto ciò che è stata la creazione della civiltà lo ha staccato da uno stato originario di felicità, rendendolo misero e infelice. Ok, quindi per Rousseau la perdita di tutte le prorogative dell'uomo allo stato libero, imbrigliato all'interno di una società dominata dalla scienza, dalla tecnica e dalle istituzioni, dall'organizzazione e dalla convivenza civile, ha peggiorato l'uomo. Quindi stiamo parlando di una tesi opposta di un uomo. E fa, in questo senso, degli esempi. Perché le scienze non hanno migliorato l'uomo? Secondo Rousseau le scienze nascono da una serie di vizi dell'essere umano e non dalle virtù dell'essere umano. Ad esempio la geometria. La geometria l'abbiamo sempre citata da Cartesio in poi, qui siamo nella Francia ancora comunque influenzata dallo spirito cartesiano e post-cartesiano, pascale, eccetera, eccetera. Beh, la geometria è l'esempio di rigore, diciamo, l'esempio della perfezione del ragionamento. Bene, invece, per Rousseau la scienza è nata come la geometria per fini pratici, dall'avarizia. Gli egiziani hanno inventato la geometria per poter suddividere meglio i campi, per poter operare meglio appunto la ripartizione economica delle coltivazioni dei campi di suddividere e diciamo che crearono tutti i vari teoremi iniziali proprio per calcolare le aree degli appezzamenti da suddividere. Quindi la geometria non è nata per fini nobili, ma è nata per fini pratici e dall'avarizia, dalla volontà di ottimizzare, di guadagnare il più possibile, da non essere scavalcati dagli altri. L'eloquenza, l'eloquenza, la scienza della comunicazione, è in realtà la scienza della prevaricazione, ricordiamoci Gorgia, ricordiamoci Protagora, dice Rousseau. L'eloquenza è nata, la scienza della parola è nata per per prevaricare gli altri, per avere ragione in assemblea, per fare diciamo approvare le leggi, per fare accusare qualcuno magari anche ingiustamente, gli avvocati, i principi del foro, i principi del Parlamento. La fisica, secondo Rousseau è figlia della curiosità vana, non ha nessun rilievo per la nostra vita, per la nostra felicità, altri sono i problemi, non certo quello di calcolare il modo uniformemente accelerato o altre questioni che soddisfano, secondo Rousseau, la nostra curiosità, soddisfano la nostra volontà di sapere tutto, ma di fatto non ci albicinano neanche di un millimetro la felicità, anzi ci fanno dimenticare che cos'è la vera felicità. L'astronomia, l'astronomia in realtà è figlia dell'astrologia, nasce dalla superstizione, studia i movimenti degli astri e in realtà insegue quindi obiettivi fuori dall'ambito dell'umano, fuori dimenticando invece che tutta questa costruzione ha creato un uomo artificiale, la scienza ha favorito l'artificializzazione dell'uomo. Occorre al contrario, secondo Rousseau, spogliarsi di tutta questa tecnica, tecnologia e pensiamo poi al giorno d'oggi, noi ora immaginiamo il 700, ma pensiamo quanto questo discorso sia in un certo senso molto recente, molto contemporaneo. Oggi siamo in una società in cui la tecnologia è pervasiva, abbiamo il cellulare sempre acceso, abbiamo il computer sempre acceso, abbiamo tutto connesso, ecco questo sarebbe proprio l'esempio di rendere artificiale ciò che nasce naturale, di perdere la naturalità della comunicazione, del nostro tempo, dei nostri interessi, del nostro vivere, perché con l'illusione di poter fare tante cose e di poter sapere tutto, di poter manipolare la natura, in realtà abbiamo dimenticato ciò che veramente ci rende uomo. In realtà il progresso delle scienze e delle arti ha fatto aumentare la ricchezza e quindi ha determinato un maggiore amore per gli agi, per il lusso, per una vita dedicata a ogni raffinatezza, anche questo è in realtà un cappio, dice Russo che ci siamo messi da soli, quest'idea di poter modificare l'ambiente circostante, avere case più comode, non so, noi pensiamo oggi climatizzatore, eccetera, sono tutte cose che ci hanno fatto invece dimenticare la capacità di cavarsela da solo, la capacità di resistere. Anche lui ci parla della degradazione fisica, del rammollimento che abbiamo avuto rispetto a un uomo originale che non aveva tutti questi, diciamo, prodotti artificiali, un uomo, se vogliamo, più spartano, ma più abituato, più in grado di sopravvivere, più in grado di trovare la felicità vicino a sé nelle piccole cose. Invece il fatto di poter avere questi lussi ha spinto a volerne sempre di più, ha spinto a volerci adagiare sempre di più, ha spinto dei costumi che forse all'inizio erano rozzi e spontanei dell'uomo naturale, verso la corruzione, la diminuzione di coraggio, una maggiore falsità, cioè tutto quello che via via ci è stato consentito, in un certo senso è stato un patto con il diavolo, ecco, forse ci vorrebbe da dire, no? Il patto con la scienza e la tecnologia è stato un patto con il diavolo, abbiamo venduto la nostra spontaneità, le nostre doti migliori, la forza, il coraggio, la resistenza, la tenacia, quello che ci rendeva veramente degli uomini, secondo Rousseau, felici, adatti all'ambiente naturale in cui erano inseriti da Dio, dalla natura, verso uomini un po' rammolliti che hanno bisogno di tutto, non sono più in grado di camminare senza la carrozza, non sono più in grado di, diremo noi, di pensare senza un cellulare, non sono più in grado di fare nulla senza la tecnologia che via via, già nel Settecento si veniva la tecnica e la scienza che veniva vista come invasiva. In più c'è anche una perdita di virtù civica perché dice Rousseau, noi stiamo delegando, e questo è molto interessante, alla scienza un ruolo che invece deve avere la politica, cioè la scienza senza un impegno morale, è in realtà soltanto uno strumento politico per i governanti, per poter decidere al nostro posto, abbiamo fisici, geometri, dice, musicisti e pittori, ma non abbiamo più cittadini. È chiaro quindi, un tempo di natura dove i cittadini erano più rozzi, erano meno tecnologizzati, avevano meno conoscenze di tutte le branche del sapere, ma erano liberi, erano felici perché in un certo senso funzionavano per come erano progettati, avevano intorno a sé un mondo a misura di uomo, al contrario il mondo creato dalla scienza, e poi vedremo l'istituzione di società che portavano l'ineguaglianza tra i cittadini, ha invece deteriorato, ha corrotto il mondo in cui vivevano gli uomini, ha corrotto gli uomini, li ha spogliati della loro spontaneità, li ha spogliati dei loro migliori sentimenti, ha fatto venire fuori sempre più avidità, sempre più voglia e vanità di sapere, sempre più volontà di arricchirsi, volontà di sfruttare la scienza per sviluppare i commerci, sviluppare le produzioni, tutto questo ha generato la cupidigia, l'avidità, l'avarizia. È anche vero però che il discorso della scienza e delle arti termina in questo modo, secondo Rousseau il vero problema non è la scienza ma è la diseguaglianza, in fondo dice il problema non è nella scienza, la scienza è un punto d'arrivo, il vero problema che va indagato e sarà quindi indagato nel secondo scritto di Rousseau è l'origine della diseguaglianza, perché la diseguaglianza genera l'accumulo di ricchezze per alcuni e la povertà per altri, ok? L'accumulo di ricchezze genera il lusso e l'ozio, è chiaro che se tu hai troppe ricchezze vivi nel lusso, puoi vivere nel lusso e hai un ozio improduttivo e dal lusso sono nate, dice la belle arti, quindi il culto del bello, riempire la casa di oggetti belli e quindi l'arte come in qualche modo anche miglioramento estetico di una vita annoiata di un ricco e dall'ozio, da avere tanto tempo da dedicare alle riflessioni, secondo Rousseau più o meno inutili, più o meno vane, sono nate le scienze. Quindi attenzione, qui chiudiamo, il discorso delle scienze e delle arti è una condanna alla scienza, ma soprattutto vista dal punto di vista di un, in un certo senso, di uno strumento che si è andato a innestare in un processo però più generale di corruzione, non è solo colpa della scienza se l'uomo si ritrova in catene, ma è per colpa dell'ineguaglianza. Ecco, la scienza è stata in un certo senso, come tutte le altre attività inutili o dannose, create dall'ineguaglianza, dalla diseguaglianza che è veramente il vero male, il vero cancro dell'umanità, la diseguaglianza ha creato la ricchezza e la ricchezza ha corrotto i costumi. Vedremo come tutto, non solo la scienza e l'arte, ma soprattutto lo Stato, sarà una formalizzazione e una istituzionalizzazione della diseguaglianza nata nel corso della storia dell'uomo.